Grazie, Presidente. Il Governo Draghi abusa della decretazione d'urgenza e va avanti a colpi di fiducia. La logica è decidere tutto, escludendo il Parlamento. La strategia è usare i decreti legge per creare confusione e paura. Segue il tocco d'artista, cioè mettere la fiducia per timore che la maggioranza si spacchi. Con la fiducia il Governo fa quel che gli pare. In un Paese normale, questo vostro ricorso fisso alla fiducia avrebbe dovuto produrre una raffica di articoli al vetriolo. Ma ora siamo oltre la sindrome di Soccolma. Più vi incarognite, più vi celebrano e vi chiedono il bis. Sepolchi imbiancati, Presidente. Avete battuto le mani al Presidente Mattarella, anche quando vi ha detto che dovete finirla di uccidere la discussione parlamentare. Siete dei giudici della democrazia, dei mentitori seriali, dei pinocci col naso di cemento armato. Con facce susseguose voi pontificate sul bene e sul male. Chi non è con voi non ha diritto di parola, deve tacere, come un testimone di giustizia, come un sequestrato, come un figlio di guerra. Le invito a moderare i toni e ad avere un linguaggio più appropriato all'Aula. Posso continuare, Presidente? Assolutamente sì, a patto che mantenga chiara queste due linee. Assolutamente sì, alle critiche, al confronto, alla dialettica. Siete intolleranti al pensiero altrui. Avete militarizzato il dibattito politico con la scusa ridicola della competenza, come se i vari bianchi, brunette e cingolani avessero risolto i grossi problemi del Paese. Temete il dissenso, come temete il giudizio popolare. Avete un governo di carta pesta che si regge soltanto per amore delle poltrone e del potere. Non sapete più nascondere le vostre responsabilità. Presidente, avete rovinato l'esistenza di tanti italiani con le vostre orrende misure repressive. Ora volete perseverare con l'obbligo vaccinale da 50 anni in su. Avete il virus della cattiveria, della madre fede, dell'Ibris. Saremo noi a vaccinarvi col siero della verità. Grazie.